Il consigliere Massimo, io lo dice, siete peccati che le rotate al tavolo della presidenza che vuole intervenire sul tavolo. Ovviamente prego tutti i massi consiglieri e gli altri consiglieri, anche standard, e io a questo punto ti doverrei a 10 minuti se siete d'accordo, per invitare a tre lungaggi. 5! Abbondare i consiglieri. Allora, consiglieri Massimo. Non funziona io. Allora, l'unica cosa che vorremmo dire, che vorremmo proposta insomma al Consiglio Comunale, attenzia, diciamo, il lavoro che si posto in comisione. Il servizio è avvenuto agli allenamenti presentati, secondo me, con la verità di contabilità, e quindi con i relativi vari, e con i relativi dati e incrementi, e attenzia, diciamo, la volontà del Consigliere Massimo Comunale, di proporre all'attenzione del Consiglio Comunale, dei relativi dati che non sono stati identificati da un modo di vista testico, nel senso che non sono stati identificati con i punti che, evidentemente, devono essere dettagliati per affrontare e appostamente in trattamenti del diritto, lui va davanti di qualche cosa altro, quindi, come consigliere, non mi sento di andare contro, evidentemente, i voti dal Consiglio Comunale. Dice, io ritengo un futuro che non crea in comisione, anche alla loro svolta della Commissione, di indicare i relativi dati, di portarli in comisione, e cercare, visto il clima che c'era in comisione, di lavorare per allargare questa necessità del futuro, non ci stiamo in posizione comunale, attraverso dei bilanci. Chiedo qui al Presidente di mettere in votazione del Presidente di mettere in votazione. Allora, il Presidente di mettere in votazione c'è una proposta di rilino degli emettamenti in votazione. Allora, un attimo, un attimo soltanto, io sono la campanella e faccio un portale e vedo la proposta al Consigliere Passamo. del Presidente di mettere in votazione。 Allora, un attimo, un attimo complesso di intellio nei sommigliali Adobe i libri sulle Allora, la proposta è possibile passare, dicono che sia sformata la proposta, se la concordete che mi intervistare alla proposta è possibile passare. Allora, Presidente, uno ha visto una richiesta che il mio è diretamente all'attenzione del Consiglio Comunale, anche perché, alla luce, è diretamente riconosce dal Consiglio che il mio ha risultato, che, insomma, sono stati presentati nella situazione del Consiglio Comunale, e quindi non solo confingere le comunità, ma anche in condizioni di dati, e siccome sono i miei ragazzi che noi abbiamo l'attenzione di attenzione, a prendere le riproduzioni che non è, noi vediamo anche, come dire, progetti, in maniera disacarticulata, la proposta è di istituità, di rinviare le condizioni, la maggior parte, quindi preparatevi con l'unico parche, e così, come un anno, questo volo mai verso l'infinanza. Quindi c'è la richiesta, sulla quale mi conoscereglie la produzione, di rinviare le condizioni di rinviamenti, che non è un altro parche, quindi si è presentato la commissione, che non è presentata, ma, sono stati tutti i miei, e poi, per esempio, presentati, un gruppo di rinviamenti, e quindi, alla prima volta, alla prima volta, alla prima volta, la 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 prima volta le altre, la prima volta, 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 è davvero seg onore, la nuova. la prima volta, Ci resta diferentesabel, io, ce la unico, ma che per pubblicamente ringraziare il Presidente della Commissione Piagni, che ci ha permesso, nella parola di saluta corretta, e adesso si fa parlare di tutta la Commissione, che ci ha permesso ovviamente di lavorare eseguamente, diciamo in modo condiviso, ma pure, tematiche importanti. E se dicevano un anno, lo stesso corpete, la politica, a volte, ovviamente, supera qualsiasi tipo di argomentazione, e quindi stia mattina abbiamo divagato delle commissioni che si sono scatenate dai primi interventi così comunali, che hanno dovuto avere sicuramente una contazione più politica. Vedete, io sono d'accordo, ovviamente, di Mila, anche perché, in condizione del bilancio, il gruppo della PDE aveva fatto delle serie proposte, che erano quelle che il Presidente della Commissione, abbiamo lavorato, che in grado di vista la Commissione, che aveva fatto con una parte delle proposte che avevano fatto il dirigente della città, per essere anche del Consiglio dei Bambiari, per essere il Stato, un fondo per le sue commissioni, ma, diciamo, un fondo per le sue commissioni, ma che i professionisti non si vogliono alimentare l'attività professionale del territorio. Avevamo, diciamo, chiesto anche e ottenuto la decisione sul momento che ci aveva fatto per la vista del patrimonio migliore. il Presidente della Commissione ha fatto altre proposte, quindi erano proposte di parte che venivano a forte e guidate, come credo, dal Presidente della Commissione. Quindi, com'è, si trattasse, è una provocazione, con un garantito, che il commissario, Presidente della Commissione, come la squadra del Presidente della Commissione, in mezzo del Presidente della Commissione, poteva, ovviamente, forse, il Fino, che ha fatto con lui, che ha fatto questa considerazione, poteva interire, per esempio, in questo, anche questo, lo chiamato, ammettamento, e poteva lavorare insieme in condizione, per dare un gruppo, un gruppo. Ovviamente, io, con il Consiglio di Palma, che è un consumo di portare i luoghi in condizione questo, questo ammettamento, anche, ovviamente, quello del commissario, la squadra di Chiesa, per parte, uno, alcuni, 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 che sono stati particolari, che in base hanno, hanno scientificato, e integrare qualcosa di un bilancio che, come citiamo, all'interno tanto altri problemi, che svegliamo, come ci siano, il bilancio sarà avvocato per i miei misi che non ci sono Gli di Sphella la Vesco di Stato, quindi, un gruppo, svegli ed i miei con le ritorne di Pianco, è favorevole questa richiesta diPianco di Parma. Non è il caso, ma non lo sconosciuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.